Un operaio di 48 anni di Acquavena, frazione di Rocca Gloriose, è stato arrestato questa mattina per maltrattamenti in famiglia ad operare i carabinieri della stazione di Torri Orsaia guidati dal comandante Domenico Nucera. Una vicenda venuta alla luce ad agosto scorso e conclusasi con l'arresto dell'uomo a seguito di un'attività di indagine messa in atto dai militari. Il 48enne, operaio in un'officina meccanica, da diversi anni a quanto pare maltrattava la moglie sottoponendola a vessazioni fisiche, schiaffi, calci, pugni e psicologiche, privandola di qualsiasi sostegno economico e minacciandola di morte, questo anche davanti ai due figli all'epoca dei fatti entrambi minori. La donna a seguito di ciò viveva in uno stato di terrore e soggezione. Ad agosto l'epilogo con la decisione di denunciare il marito per l'ennesimo episodio di violenza. Subito dopo però, temendo ritorsioni, la donna ha abbandonato il tetto coniugale assieme ai figli. I carabinieri che hanno preso in carico la denuncia hanno proseguito nelle indagini che sono state pienamente condivise dall'autorità giudiziaria, la quale, vista la gravità dei fatti e il pericolo concreto che i reati commessi dall'uomo potessero essere portati ad ulteriori e più gravi conseguenze, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati sia per i futili motivi sia per la presenza dei minori. Ai polsi dell'uomo questa mattina sono scattate le manette. Il 48enne è stato tradotto presso il carcere di Vallo della Lucania.